Buonasera e benvenuti a Roma nella sala dedicata all'estrazione del Super Enalotto. Chi possiede oggi, martedì 24 novembre, la ricevuta della giocata del Super Enalotto può vincere 27.995.985 euro. Le operazioni relative al concorso numero 141 sono iniziate, le 90 sfere numerate per la sestina vincente e il numero jolly sono state caricate e con l'autorizzazione della commissione di controllo diamo il via all'estrazione di questa sera. Le sfere sono scese nell'urna elettronica e inizia il loro mescolamento automatico. Andiamo a scoprire il primo numero della sestina vincente. Il primo numero estratto è il numero 82 Il secondo numero di questa sera sta arrivando Il secondo numero estratto è il numero 54 Ed ora siamo al terzo numero, con il Super Enalotto già vinci con 3 punti. Il terzo numero estratto è il numero 70 È il momento del quarto numero che ci porta verso premi importanti. Il quarto numero estratto è il numero 84 Il quinto numero è il penultimo numero Il quinto numero estratto è il numero 80 Con l'ultimo numero la sestina vincente di questa sera sarà completa Il sesto numero estratto è il numero 52 Abbiamo i sei numeri che possono assegnare il jetpack Passiamo ora all'estrazione del numero jolly per l'attribuzione dei premi di seconda categoria Il numero jolly di questa sera è il numero 66 Controlliamo insieme la sestina vincente in ordine di estrazione e il numero jolly 82, 54, 70, 84, 80, 52, numero jolly 66 E passiamo ora al numero superstar Il numero che potete scegliere voi o che vi viene assegnato casualmente dal terminale di gioco Già al momento della convalida della giocata può far vincere premi istantanei da 5 a 10.000 euro La sua estrazione avverrà grazie a questa seconda urna elettronica caricata con sfere dall'1 al 90 E procediamo con l'ultima estrazione di questa sera E vi ricordo che il numero superstar premia anche lo 0, l'1 e il 2 E moltiplica 25 volte le vincite del 5, 100 volte quelle del 4 e del 3 Il numero superstar di questa sera è il numero 82 Ricontrolliamo insieme tutti i numeri del concorso 141 del Super Enalotto con la sestina vincente in ordine crescente 52, 54, 70, 80, 82, 84, numero jolly 66, numero superstar 82 E l'estrazione di oggi martedì 24 novembre è terminata Tra pochi minuti scopriremo insieme se il jetpot di oltre 27.900.000 euro è stato assegnato a uno o più vincitori Vi aspetto qui su Sisa TV, la rete in diretta con la fortuna Ben ritrovati qui su Sisa TV, la rete in diretta con la fortuna Poco fa abbiamo seguito l'estrazione dei numeri vincenti del concorso numero 141 Che vi ricordo ha messo in paglio il jetpot di oltre 27.900.000 euro Anche questa sera il Super Enalotto ha per voi numerosissimi premi Abbiamo infatti 50.258 vincite Ma è il momento di scoprire insieme se il jetpot è stato assegnato a uno o più vincitori E il computer ci comunica che non è stato realizzato il 6 nel 5 più 1 I 5 sono 10 e vincono 18.833 euro ciascuno I 4 sono 608 e vincono 313 euro ciascuno I 3 sono 18.747 e vincono 20 euro ciascuno Passiamo ora a Superstari, il numero stella che premia anche lo 0, 1 e 2 E moltiplica le vincite del 5, 4 e 3 Entriamo nel dettaglio e vediamo tutte le quote Nessun 5 stella, i 4 stella sono 3 e vincono 31.348 euro ciascuno I 3 stella sono 93 e vincono 2.021 euro ciascuno 100 euro vanno ai 1429, 2 stella 10 euro vanno ai 9.254, 1 stella 5 euro vanno ai 20.114, 0 stella Andiamo insieme a scoprire il jetpot del prossimo concorso 28.400.000 euro Grazie per essere stati qui con noi Il Super Enalotto vi dà appuntamento a giovedì 26 novembre Sempre qui su Sisal TV, la rete in diretta con la fortuna Grazie per essere stati qui con noi